29 maggio 1953 edmund hillary è il primo a scalare l'everest britannico nato in nuova zelanda accompagnato dallo scerpa locale tenzing norgay raggiunse la vetta del monte che con i suoi 8848,86 metri sul livello del mare è la cima più alta della terra l'ascesa al tetto del mondo si tentava da un secolo perché per un paese raggiungere per primo la vetta sarebbe stato un risultato di grande prestigio fu il regno unito a dedicare maggiori risorse all'impresa affrontata anche come una questione di interesse nazionale per motivi economici e geopolitici il nome stesso fu stabilito in onore di sir george averest supervisore dei geografi al servizio della corona britannica di rilievo il tentativo del 1922 in cui venne utilizzata una novità tecnologica il respiratore artificiale gli scalatori raggiunsero quota 8326 30 anni dopo una spedizione svizzera stabilì un nuovo record mancavano però ancora 200 metri erano già gli anni 50 hillary che dalla famiglia originaria dello yorkshire aveva ereditato la forza contadina e dal padre giornalista lo spirito da pioniere il 29 maggio 1953 alle ore 11 e 30 si trovò ad essere l'uomo giusto nel posto giusto al momento giusto continuavo a scavare scalini lungo la cresta ricordo poi e con mia grande gioia realizzai che tutto il mondo si stendeva ai nostri piedi avevamo raggiunto la cima nel cinquantennio successivo si contano oltre 5.000 ascese sino alla vetta alle quali hanno preso parte circa 3.000 alpinisti 210 di essi non sono mai tornati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti